Yeah! Buongiorno a tutti, questo è un nuovo video. Ciao ragazzi, sono da YouTube e oggi siamo qui per la Reaction Benzo Francia. Serie finale del Mondiale, ci sfidiamo io e Om. E oggi ragazzi abbiamo riservato una ruota tutta speciale. Siccome già avevamo una sfida in sospeso io e lui, dovevamo fare una search di scarte. Abbiamo pensato perché non integra... No, io ho pensato, visto che oggi il Benzo perderà, perché non fai scartare tutta la scuola? Integrarla. Integrarla. Ok, perché non integrarla? Oggi qua dentro il belgio perde, mi fa scartare tutta la scuola, mi dispiace, ti scartirà tutto il club. Lo scopriremo. Andiamo dentro. Con la Reaction. APS, più sgamer, c'è la madre della Francia, quindi avvinto il belgio. Ok, ci. Vai vai Eden! Mi piace l'atteggiamento, mi scrivendo il belgium. Dai 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 è troppo buon tazzo il messino oddio qui segna la Francia no non segna qui sai che segna? barangue barangue ma se hai un metro le spinta ma hai visto? in ribattuta dai nooo nooo non si segnava così io non ho capito perchè uno che si chiama Giru ha problemi a girare la fuda bravo vado 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 dai dai vai vai no no anche io bene ragazzi fino al primo tempo Che dire, dobbiamo girare la ruota No, ma ci tocca Eh sì, 0 a 0 ci sono due che vinci Quindi tutti e due che c'erano la ruota E' occasione tra me a parte Forse... Io direi di far la girata di Andrea Fusco più schiepe di Fusco Andrea No, è per on Vai Andrea Vai Un gira buono, per favore Certo, non mai Hai con la nota Più E va bene Ehi, scartare Bene ragazzi, siamo qui pronti per scartare Sono il 2 di notte, 2.20 Adesso abbiamo finito a smontare tutto E adesso andiamo a scartare Cosa facciamo? E siamo coerenti Scartiamo ragazzi E vedete Bene E adesso andiamo dentro Con un icon 90 più 90 più 90 più Quindi c'è Ferdinand C'è Roberto Carlos Ma che sì Però chi mi consiglia Però vai che lo li comprare Però Secondo me Roberto Carlos Che comunque può potersi Mi Toti Marcello Toti Qualcosa c'è Ferdinand Adesso se volevi sostituire La Ferdinand Sì Ciao Roberto Eh vabbè Ciao Roberto Sì Andri Per Tony Mettere 98 No Che è il bonus Ma che miseria Eh che favore Sì Quindi ragazzi Adesso gira Tony Per Home Per Home Bello Il suo giro Fof Fof Eh beh Fof 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 Allora Festival di frutto Il fondo è questo Sono talmente scolato Che sono scolato anche sulla ruota Fof 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 Quindi Home È il festival di frutto Doviamo prendere un 90 più e scartarlo Vediamo un po' Vediamo un po' Che abbiamo Secondo il po' Io tipo Guarda Isco Buffone Io allora Io direi di iniziare Da Isco Eh perché quando puoi scartare Un phone Eh Non si sa mai Io scarterei Isco 11.000 credit Che bello Sì è andato bene Però 11.000 credit Ne hai recuperato Ma non 11.000 credit Eh Vuoi mettere Eh vabbè Cari a preto Buon secondo te Hai preso il secondo tempo ragazzi Speriamo che la faccia Faccia il curo Cosa ne pensi Donny Di questa cosa che ha detto Cosa ne pensi Andrea Che ti incerai ben Sì vai Quattro anni Sarebbe convinti dai 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 Ma tu lì Sì vai Ma cazzo c'è la vola Sì 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 Guardalo lì È un TTSPT Tony Andiamo a fare il giro di ruota eh Però aspettiamo la punizione Che magari facciamo due giri Magari Va bene due giri Dai Ah mi sono proprio sfogato Quando Eh nella liberazione Picazzo Capito? Secondo me Come cosa è sullo schema Owen Una festa della liberazione Mi ricordo qualcosa Vai Dai Ruota Ruota E' un altro fof Noo un altro fof Dai quanti fof? bene un avevi scartato disco e mi avevi chiesto sul buffone il parere ma la nota ha voluto che devi scartare anche il buffone festival of football 90 più e c'è solo buffone ciao Gigi è andato anche a Parigi lo sentiamo proprio tagliela brava che giocatta oddio che cazzo ha fatto ci credo che giocatta è stato fatto ma chi era? ma chi è fondate è stato fatto siEE dai 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 bbeatista che cosa cosa ha fatto ilterno? la pancia tos il più forte che ha oppure il meningale? no è il toss Benettoni, tozza, con gli ultimi vengono il 95 Ti è piaciuto, l'hai mai trovato? No, non c'è niente Mi sa che non ce l'ho più E il primo se ne va No! Si! Sì! Stai disontando! Non siamo morti, non siamo spacciati Oh, è fatto però! Ammonisce! Ammonisce! Sì! Ammonisce! Aspettate, aspettate Vieni, vieni Giriamo, giriamo Ti penso al Brasile, va Giriamo, giriamo, giriamo Giriamo, giriamo, dai Bello che sia, magari Riproviamo, dai Ok, vabbè dai Capito? Bergio Bergio Devi giocare, devi scaricare il giocatore Deve fare più forte del gioco Ovvero? Ovvero, chi hai in questo cazzo? Chi hai in te più i toddy? Chi hai? E che hai in te più i toddy? C'hai in te più i toddy? C'hai in te più i toddy? C'hai in te più i toddy? Ce l'hai in te più i toddy? Lukaku! Lukaku? Lukaku! Lui è stato il tuo Romelu Il tuo idoneo di questo mondiale 95 95 Guardi che bestia Sono giocato con voi A me è stato un piacere Ciao Romelu Mi dispiace E anche questo Tony Se n'è andato Non è possibile Giorno Giorno Vai Dammi la ruta Giallo Dammi la ruta E Dira la ruta E E La fortuna allora vai ok ok o gira la rota e non gira la rota no no non gira la rota è la bonus è la bonus sei girata adesso vai in serio è la bonus quindi non di queste per te ora si viene ancora bonus un'altra tozza che vuoi che fase questa tozza mi sa che sarà più pesante di Timo Werner il difensore di proprio il gioco quant'è il toti? 95 eh 95 o 96 non lo so soli due di notte sto ricoglionito ciao ciao Ramos ciao maldito e anche questo sei andato amorissimo amorissimo Dio no no vai vai giallo per il bambino gira la rota ah per te? quel bonus per far solo uscire il bonus serri e come bene e adesso dobbiamo scegliere un icon c'è risulta una 90 serie si però questa non è un 90 più lo scatto Roberto Carlos o vanetti o hai qualcun'altro o scatto del Piero e beh da di armon infatti non diceva 90 più e vabbè Tony e allora del Piero ciao Alex ciao Alex ciao Alex ciao giallo si vai ah sei forse da me il gioco si 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 vai togli il pubo grazie va bene con la partita sei nervosita ma esce Tots 90 più guarda speriamo basta Tots 1-1-1-1-2 food champions ben atonente ti tocca al food champions più che Walker ti farei scantare Son perchè cavolo Son è il cristiano Ronaldo o coreano e allora vada per 5 piedi debole si era questa una bestia eh il prossimo anno se vado bestanti ma intanto noi lo salutiamo ciao chiao Son lei che è finita SEEEEEEEEE è finita è finita è finita la volontà la volontà la volontà che dire ragazzi beffati da un gol sul calcio di un angolo di Uttiti che godo partita alla fine equilibrata ciò era bene il Belgio fino all'ultimo sì ragazzi abbiamo abbiamo il vincitore della 3Action quindi il vincitore della 3Action è home che dal buon italiano hai preso i francesi bravo hai sbagliato pure l'argentino e il belgio non lo devi farlo perciò odio la Francia cazzo è un po' di nero abbiamo proprio il mio scontri diretti sei riusciti eh si ma cosa farai oh? non ci sa certo lo dirò in questo video visto che non andrà sul mio canale quindi ragazzi che siete ragionati sul canale di Omo per l'eventuale finale della Francia contro l'Inghilterra oppure contro Croazia e niente facciamo un applauso ad altri action ragazzi grazie grazie se non mi piace se non siete ancora iscritti iscrivetevi non perdetevi gli episodi di questa serie sui canali di Andrea sono io e quello di Omo noi ci rivediamo al prossimo video bella lana